Nonostante di fide, pronunciamenti giuridici, ordinanze del tribunale competente anche da Sulmona, vari minorenni autistici residenti sull'intero territorio della provincia dell'Aquila, assistili dall'Associazione Autismo Abruzzo Ollus, attendono ancora prestazioni sanitarie da parte della ASL1. Lo segnara Dario Verzulli, presidente dello stesso Sodalizio, con particolare riferimento a una bambina di 4 anni, un ragazzo di 17, Maria a nome di fantasia, a 4 anni, una prescrizione emessa il 26 novembre 2021 per un intervento riabilitativo in serie di ambulatorio delicato per l'autismo al pari di altre decine di piccoli utenti, spiega Verzulli. La bambina è collocata a lista di attesa in una struttura accreditata, ma l'assenza di fondi non permette l'avvio del percorso riabilitativo. L'intervento riabilitativo tempestivo nell'autismo è fortemente raccomandato dall'Istituto Superiore della Sanità. L'incapacità organizzativa e la burofollia in calza Verzulli sono tali da non considerare minimamente tutto questo, nonostante le reiterate richieste dei genitori che raccolte dalla nostra associazione hanno determinato l'invio all'ASL Aquilana alla Regione Abruzzo formale diffida. A seguito della diffida dell'Associazione, il dottor Claudio Damario, direttore del Dipartimento della Sanità della Regione Abruzzo, ha inviato una nota specifica all'ASL Aquilana con l'intento di acquisire le informazioni necessarie, avviare a più presto il percorso riabilitativo prescritto. Il direttore del distretto sanitario di competenza ha specificato che la struttura accreditata conferma di aver puntualmente recepito l'autorizzazione, avendo tuttavia a lista d'attesa per la presa in carico altre autorizzazioni di minori, con pari codici di priorità e antecedenti a quello della bimba in oggetto. Non va meglio a Claudio, un ragazzo autistico di 17 anni, che attende dal 15 giugno scorso l'applicazione dell'ordinanza del giudice del Tribunale di Sulmona, che intima l'ASL Aquilana di prendere in carico il giovane. Claudio e sua madre attendono l'erogazione di un servizio di compagno adulto, cioè il mediatore cognitivo comportamentale prescritto il 27 maggio 2019 dal distretto sanitario di Casteldisangro. Tra liste di attesa, servizi non erogati, va avanti l'odissea degli autistici.